Davvero super sexy. Dai, corri. Per legge devi tenerlo al guinzaglio. Sorridi! Sei stata in coma per tre settimane. Abbiamo dovuto dirgli addio. Voglio rivederlo. Lui non c'è più. Voglio rivederlo. Non c'è più. Non avevo mai capito come la gente potesse vivere nella paura. E poi è capitato a me. Su questo caso stanno lavorando i migliori detective della città. Se ha la pazienza di aspettare seduta lì, scenderà subito un agente ad aiutarla. Noi siamo con lei. Non ho questa sensazione. Quando ami una cosa, ogni volta che ne perdi una piccola parte, perdi un pezzo di te stesso. È troppo facile, amico. È sorprendente scoprire che dentro di te c'è un'estranea. Ho ucciso un uomo stasera. Uno con le mie stesse braccia, i miei occhi. Se si vuole insinuare che questo omicidio sia giustificabile, vorrei ricordarvi che esiste la legge. Ormai sei solo un'estranea. Non c'è ritorno. Come ha fatto a ricostruirsi una vita dopo quello che le è capitato? Diventando un'altra. Ci sono molti modi di morire. Ma si deve trovare un modo per vivere. Una volta mi sono chiesto se una persona che conosco commettesse un delitto. Avrei la forza di mandarla in galera. E ce l'ha. Vuoi qualcosa? Il mio cane voglio.